Domani è una grande giornata, storica per certi versi per il Porto di Gionota, soprattutto per il Molo Sud, con 400 metri levigati dalle maioriche di Castelli. Una bella iniziativa portata avanti dall'ente porto e che domani si concretizza con l'inaugurazione. Stiamo con il Presidente Marco Verticelli. Sì, domani alle 18.30 ne approfitto per invitare tutti i cittadini a partecipare a questo evento, a questa piccola cerimonia e brinderemo tutti insieme per il futuro del Porto di Giulianova e delle nostre comunità. Sarà un momento per stare insieme, per poter apprezzare, credo, qualcosa di bello e che è anche il segno di una profonda unità dei nostri territori, una vicinanza anche con le zone interne, con Castelli e con una tradizione straordinaria. Come è stata strutturata l'opera? L'opera è composta da 1578 mattonelle di 50 cm x 25 cm, tutte colorate e decorate a mano, da 15 maestri artigiani, quindi in 15 botteghe. Poi ci sono stati tanti altri professionisti e artigiani che hanno ciascuno contribuito per le varie componenti di quest'opera. E quindi è qualcosa comunque di significativo anche dal punto di vista numerico e quantitativo. 1578 euro. Sì, sono anche pezzi grandi e quindi difficili da lavorare. Che cosa hai mai detto? Rappresentano? Rappresentano le immagini che si trovano sul soffitto di una chiesa famosa, che è quella di San Donato di Castelli, e furono dipinte fra il 1615 e il 1617. Rappresentano veramente l'anima di Castelli, l'emblema di questa scuola, di questa tradizione. Chi vede quelle immagini pensa a Castelli. Ecco, ed è anche un bel messaggio anche promozionale. Si vede qua, vede queste ceramiche, allora si fanno a Castelli e vanno anche su, in quella zona purtroppo martoriata come tante altre dal terremoto. E certo, è anche una, secondo me, opportuna opera promozionale, perché favorisce anche lo spostamento, insomma, di interessi, di economie, anche verso queste zone interne che hanno delle tradizioni straordinarie, che spesso non vengono valorizzate come ci deve. E quindi in questo momento, in questo modo, stiamo unendo un'esigenza di bellezza del porto, di fruibilità, con la possibilità di trasmettere questo messaggio positivo. L'ultima domanda, non so se hai fatto una ricerca, ma potrebbe essere l'unico porto italiano con queste bellezze? La ricerca non l'ho fatta, quindi non vorrei dire delle sciocchezze clamorose. Però è un'Italia in queste condizioni. Penso proprio di sì. Per quanto abbia chiesto in giro, c'è qualche piccolo pezzo fatto, qualche cosa così, ma in queste dimensioni, in questa portata. Diceva un ex assessore Grimie che è la vittoria del territorio, è vero questo mare, monti attraverso l'arte. Ma sì, io penso che ne abbia colto il significato vero, insomma. Ripetiamo allora, 18.30 domani. 18.30 domani, Molo Sud di Gironova e Porto di Gironova. Brinderemo tutti quanti insieme.